la cultura è avvertita come un problema, in realtà la cultura e il pensiero in generale è una risorsa ed è una grande risorsa soprattutto per un paese come il nostro che ha un grande giacimento culturale, non bisogna immaginare la cultura come qualcosa di staccato dalla politica, dall'economia, dalla società di un paese, perché solamente un paese che sappia mettere a frutto le grandi risorse della cultura potrà fare anche un salto di qualità sul piano della politica e dell'economia.